protocollo reatti, individuare e neutralizzare obiettivi le telecamere sono controllate dal REACT Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 RICOGNIZIONE DRONI RIATTE IN CORSO RICOGNIZIONE DRONI RIATTE IN CREDITUAL RICOGNIZIONE DRONI BIANDITUAL ESMPな JIRRA SLIFS RICOGNIZIONE DRONI RIATTE IN CREDITUAL RICOGNIZIONI duh NO ESPLAZIO un uomo per un pinto nero, non di male, criminale, e a morte chiedo da chi la, non so ne ne stesse, non di male, se sono un uomo per un pistolero, non di male, diciamo criminale, non di male, se sono un uomo per 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 un Se sono un uomo, vedo un pezzo l'era, mia energia, non sono tu, se sono un uomo, vedo un pimbo l'era, no. Sì, non sono tu, se sono un uomo, vedo un pisto l'era, no, 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 no. No, 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 no non lo tu ma se lo uomo mi chiedo un pistolero nare amore criminale restano 15 secondi 10 secondi al termine un operatore react rimasto finestra di estrazione react mancata certamente non ho mai detto 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 che ho mai detto non ho mai detto ciò che mi prometto dando un cererato non ero aspettando e che un occhio gigante del mondo mentre lei mi sembrava all'intorno dai corpi a ballare labbra rosse e coca cola Dimmi solo che torno mi dice che questo era bisogno di un bel problema e va bene così ma poi me ne restano mille Occhi per grandi nel mondo e le cose che non mi torno Restano mille Controlla delle telecamere Suona bene Hai risolto un bel problema Va bene così ma poi me ne restano mille Ahhhh Ha ha a a a a a a a man a 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